Chi deve essere? C'è stato? Barbara! Sono Davide! Ma cosa fai qui? Ma... niente, volevo parlarti. Accidenti, ti ho cercato per tutta la Germania. Ma cosa fai? Mi accogli così? Mi sembri a lutto? Veramente non ti aspettavo. Meno male, sei dolcissima quando sorridi. Mi è sempre piaciuto vederti. Hi! 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 This is my ex-husband. I didn't know who was here. Il Maggiore St. Kellington della Nato. Piacere. Ti devo parlare. Dovevi avvertirmi, non posso liberarmi. Lui è venuto apposta da Verona per vedermi. E io sono venuto da Roma, anzi da Tocchio. Dobbiamo parlare di nostra figlia, mi sembra più importante. Cosa devi dirmi di Andreina? Avresti potuto almeno avvertirmi prima di finire nel letto di questo... bestione. Ma cosa dici? Sei matto? Potevamo fare un altro tentativo, no? Un altro tentativo, ma se ne abbiamo fatti almeno dieci, venti. E con che risultato? Disastro completo. Ma a tua figlia non hai pensato. Non mischiare Andreina in questa storia. Quando andavi con le tue puttane, ci pensavi? Sì, va bene, va bene, avrò sbagliato. Però ti ho sempre amato. No. Io ti ho amato. Ti ho amato così tanto che mi sono completamente svuotata. Non mi è rimasto niente. E adesso vorresti dirmi che il guerrafondaio qui ti rende felice? Sì. Io cercavo tenerezza, affetto. Volevo sentirmi protetta. E tu pensavi solo al sesso. Lui mi dà quello che non hai dato tu. Eh già, carri armati, bombardieri, missili persi. Non essere ridicolo, Davide, ti prego. Io non penso che tu sia un imbecile, ma certo riesci a diventarlo quando ti ci metti. Hai problemi, Sonny? Non c'è qualcosa che non ha chance, non c'è? Cosa dice il dottor Stranamore qui? Digli che parli di italiano, se no che se ne torni al suo paese. Hai capito benissimo, Davide. Da quanto in qua non capisci l'inglese. Io non voglio capire. Avrei voglio di spaccargli la faccia a questo cowboy da strafazzo. Davide! Let's go out of here, Maria. Notarlo due. I don't want to stay here in a moment, no. What's this? No. Come on, let's go home, my response. Don't say. There is no need to act this way. You know, I can't stand it. I'm sorry, but I hate tommakers. Do you want to go back and see if he's okay? Go! Don't be stupid, Steve. He let me lose my cool. I hate that. I can't stand my son. God. Qua? Ai, ai. Ma mi dico, guarda sti americani. Non gli basta fracassarci le orecchie con la loro musica, no? Adesso si mettono anche a picchiare i nostri figli. E i tedeschi, poi, con quelli non siamo mai andati d'accordo. Durante la guerra, in Cadore, hanno rubato le campane del campanile per fare canoni. E tu vai a sposare una di loro. Pietà, sta zitta. Adesso chi è? Buongiorno. Te lo do io al buongiorno. Fuora da casa mia e non metterci più piedi finché ce sono io. Ma dice anche buongiorno. Indovina chi era. Ha avuto anche il coraggio di presentarsi qua dopo tutto quello che ti ha fatto. Ah, ma l'ho trattata come meritava. Ma cosa hai fatto, mamma? Sei impazzita. Barbara! Vai! Vai! Barbara! Barbara! Aspetta. Barbara! Mi cercate? Senti, Davide, mi spiace per quello che è successo, mamma. Te lo sei proprio cercato. Come va adesso? Beh, benissimo. Però se mi ricapita sotto un americano, ti faccio vedere. Sì, ho sempre saputo che non ho un figlio, ma due. Andreina e Davide. Ah, allora, mamma. Non lasciarmi orlo. Davide, sono tre ore che discutiamo. Ma purtroppo vedo che è inutile. Tu non vuoi capire. Non vuoi capire. Fra me e Steve è una cosa seria. Ma che significa seria? Non sarai mica innamorata di quello lì? Uno che ha perfino tentato di uccidermi? Sì. Io lo amo davvero. Figurati, ma è assolutamente ridicolo. Un cararmato, innamorarsi di un cararmato. E pensare che facevi tanto la pacifista. Du bist schoistlich, Davide. E no, eh, e non parlare tedesco. E non dimenticare che sei ancora mia moglie. E io ti proibisco assolutamente di fare... Tu non proibisci un bel niente. E sei tu che dimentico. Ma che cosa dimentico? Davanti all'avvocata hai detto che eri d'accordo sulla separazione consensuale. Ma io non ero d'accordo, non ero d'accordo. Ho presentato la domanda al tribunale. Sì, certo, hai presentato la domanda. Hai fatto tutto quello che hai voluto, ma senza dirmi assolutamente niente. Ma io non posso credere che tu divorzi da me per sposare King Kong. Dimmi quello che vuoi, ma io non ci credo, non ci credo. Insomma, basta, Davide. Ormai è troppo tardi per salvare qualcosa. Non sei cambiata e non cambierai mai. Io sono arrivata. Per favore, da Andreina, un bacio da parte mia. E se mai un giorno vorrei parlarmi, ma seriamente, telefonami. Addio, Davide. Ma... Ma... Grazie a tutti.